Un benvenuto a tutte amiche ed amici sul nostro canale. Canale 5 ci fa un altro regalo. A partire da lunedì 4 luglio, una nuova soap turca ci aspetta. Difatti, rimpiazzerà la mattissima Brave and Beautiful. Dopo che abbiamo visto tutte le varie traversie di Suan, finirà. Le anticipazioni italiane di Terra Amara, si chiamerà così questa nuova serie, partiranno dal 4 luglio. Da quello che si sa, sembra che questa telenovela ha proprio tutti gli ingredienti per conquistare il cuore di tutti coloro che amano le storie ed amore capaci di superare anche le difficoltà all'apparenza insormontabili. E vederci poi il lieto fine. Ma per scoprire bene che cosa accadrà, vi lascio un link in descrizione di un canale che segue nel dettaglio proprio questo tipo di soap turca. E quindi lo potrete seguire lì. Si chiama Serie TV World. Trovate il link nel... Ma vediamo una piccola anticipazione. Ci sono questi due protagonisti di questa storia d'amore che è raccontata appunto da Terra Amara. Sono la giovane e bella Zulela e Ildiz, un ragazzo umile da carattere molto timido. Zulela vive con il fratellastro Veli e la cognata e lavora come sarta ad Istanbul, mentre Ilmaz vive con il padrino Hayan, che lo ha preso in casa e cresciuto dopo la morte dei suoi genitori. Il ragazzo lavora come meccanico nella bottega del padrino. Fin dalle prime puntate però emergono i primi problemi che i due giovani si troveranno ad affrontare. La vita di Zulela in famiglia con i fratellastro e la cognata è tutt'altro che facile. Lui è un accanito giocatore d'azzardo che si trova presto coperto dai debiti di gioco. Nassi però non pretende che Veli lo paghi in denaro. Per sdebitarsi dovrà permettergli di trascorrere una notte con sua sorella. E il resto ve lo faccio scoprire sull'altro canale, andate a vederlo. Intanto vi ringrazio per averci seguito fino a qui. Noi continueremo con le nostre notizie. A presto!